Sono almeno 23 i civili uccisi in Siria a causa di una nuova serie di bombardamenti governativi contro roccheforti dei ribelli. Le informazioni, così come le immagini, diffuse da video e materiali su internet, sono di difficile verifica. Nelle ultime ore i combattimenti si sarebbero intensificati a Duma, una decina di chilometri a nord-est di Damasco. L'aviazione di Assad e la Russia bombardano i civili, accusa quest'uomo, ma Mosca nega. I regime di Damasco e la Russia hanno detto di avere precisi obiettivi, ma qui non ci sono ribelli legati a gruppi estremisti islamici come il fronte al-Nusra, ci sono solo civili. La verità è che stanno uccidendo le persone, è evidente, non c'è altro da aggiungere, il solo obiettivo è uccidere i civili, in qualunque modo. C'è di nuovo la guerra, denuncia l'osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione dell'opposizione con sede a Londra. Il cessato e il fuoco è in vigore dal 27 febbraio, ma il paese continua a contare le vittime, anche i bambini. I colloqui di pace proseguiranno a Ginevra fino al 27 aprile.